In quel tempo, l'Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth. A una vergine l'Angelo le disse, «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo». Ascoltando Luca, abbiamo ascoltato la Madonna che racconta questo mistero. Stiamo davanti al mistero.